Ma dal fatto che avvengano io ho qualche dubbio, mi sembra una situazione così nebulosa e non vedo tra l'altro una strategia militare che possa essere in qualche modo supportata da questi pretesi interventi, ammesso che ci siano stati. L'ipotesi di un intervento militare senza una richiesta specifica del futuro governo libico è un'ipotesi che io escluderei a priori, prima per motivi di carattere di legittimità, non è possibile fare una cosa del genere se si vogliono rispettare le regole che noi stessi ci siamo dati. E poi dal punto di vista pratico un intervento militare ha senso soltanto se si prefigge determinati chiari obiettivi. Quale sarebbe l'obiettivo? Eliminare alcune delle fazioni che hanno innalzato la barriera dell'Isis in Libia al fine di che cosa? Consentire che le altre fazioni possano continuare a farsi la guerra l'uno con l'altra. La creazione di una rappresentanza libica unitaria è assolutamente prioritaria ed essenziale e senza di questo io non credo che ci potrà essere nessun impegno di nessun tipo se non quello della diplomazia che continuerà a fare i suoi sforzi per trovare una via d'uscita che necessariamente prevede una Libia una, una Libia che sia un'interlocutrice credibile del mondo politico e non questa cozzaglia di fazioni che si combattono l'una con l'altra e comunque tendono a mantenere il potere territoriale limitato che ciascuno di queste ha.